Raccontare la Magna Grecia è il concorso fotografico che come città metropolitana di Reggio Calabria abbiamo voluto promuovere per proseguire il percorso che abbiamo avviato già all'inizio dell'anno rispetto al cinquantesimo anniversario del ritrovamento di Bronsiria. C'è un concorso fotografico rivolto ai giovani fino a 25 anni che si è concluso oggi con la premiazione delle tre più belle, più interessanti, più rappresentative e fotografie che si sono appunto giudicate il primo, il secondo e il terzo posto a seguito di una valutazione che è stata fatta dai componenti della Commissione che ringrazio e li ringrazio per il lavoro che hanno portato avanti, li ringrazio per l'intuizione che abbiamo avuto tutti insieme ma soprattutto ringrazio quanti si sono voluti approcciare a questa opportunità offerta dalla città metropolitana che sicuramente sarà il caso di ripetere anche l'anno prossimo.